Luciano Bettucci, Presidente dell'Accademia dei Riuniti, l'Accademia anche quest'anno propone la rassegna Tributi, di che cosa si tratta? Sì, fra le varie programmazioni che facciamo, come anche gli altri anni, riproponiamo Tributi. Tributi è una rassegna musicale che non vuole essere solo un semplice concerto, perché si poteva fare anche in un altro luogo. Lo facciamo a teatro perché, oltre alle musiche che ricordano certi autori, certi cantanti, ci deve ricordare anche il periodo storico, il contesto in cui questi cantanti e queste musiche sono state fatte. Infatti, assieme ai orchestrali verranno proiettate alcune immagini e verranno anche dette alcune cose, recitate. Quindi è un mixer di musica, parole e immagini. E questo ci sembra sia più consono per un luogo come il teatro, perché se no, ripeto, un concerto si poteva fare in un ambiente diverso. Che cosa propone il programma di quest'anno? Che vedrà anche una serata in più rispetto alla prima edizione, quattro serate? Sì, le quattro serate. Allora, la prima è dedicata ad Andrè, con Gabriele Carbonari e Marco Fattorini. La seconda c'è un gruppo che all'epoca era conosciuto in Umbria, l'Aster Novase, che è poi lo stesso gruppo che abbiamo avuto a Umbertide in occasione dei Veioni di Carnevale. Poi andiamo all'11 aprile con Suonare Suonare, che sono le musiche fra gli anni 70 e gli anni 80. E qui abbiamo un gruppo di ragazzi umbertidesi anche, di ragazzi, erano ragazzi. Per chiudere con un tributo a Queen diventerò leggenda, infatti è diventato una leggenda. E ecco, queste musiche vengono accompagnate, come dicevo, da racconti, da immagini, proprio per ricordare sia le musiche e le canzoni che hanno un loro contenuto, inserite in un contesto storico che è stato il nostro passato.